Ciao Alessia, sono Gabriella De Filippis, avvocato genovese. Penso che la violenza sulle donne si possa combattere anche contrastando gli stereotipi di genere. Quindi per favore smettiamola di dire di una donna in gamba che è una con le palle. Che cosa direste se di un uomo in gamba dicessimo che è uno con le tette? Saluto tutti gli amici che hanno partecipato a questa maratona 100 donne vestite di rosso. Grazie.